Professor Sterpa per passare a vedere appunto l'aspetto, diciamo, un gradino dallo Stato alle regioni, quindi prego. E qui non ho detto, ma insomma vi siete già tenuti, mi ha ricordato il professor Napolitano che sarò, diciamo, il record è 13, ne avete 15 a disposizione. Grazie. Grazie a voi per l'invito. Diciamo che la particolarità di questa relazione si può insomma vincere anche dalla struttura del convegno perché si parla di governo internazionale, nazionale, non si parla con una sessione ad hoc di un governo regionale o locale dello sport perché probabilmente, giustamente, bastava probabilmente una relazione sul tema dentro il governo nazionale. Dico questo perché, come sapete, e dalla Costituzione parto, la parola ordinamento sportivo compare, a seguito della riforma del titolo quinto del 2001, come una delle etichette che il legislatore costituzionale colloca nella lunga lista dell'articolo 117, al suo secondo comma, o meglio al suo terzo comma, tra le materie concorrenti fra Stato e Regione. Dico subito che si tratta di un'etichetta molto particolare, per vari ordini di ragione. Il primo è perché l'utilizzo della parola ordinamento, oltre a evocare quanto già è stato detto dai precedenti relatori e quanto sarà ancora detto a seguito, cioè l'idea di una disciplina che riguarda un complesso di organizzazione, di norme, di regole, che tende a una autosufficienza. In realtà il termine ordinamento ci evoca anche altre materie che vengono descritte con questa parola, nelle quali lo Stato in questi anni ha avuto sicuramente la parte fondamentale rispetto alle regioni. Si pensa all'ordinamento della comunicazione, all'ordinamento delle professioni. Quindi un'etichetta che nel riparto fra Stato e Regioni sente subito un elemento di importante ruolo dello Stato rispetto all'autonomia territoriale delle regioni. Poi c'è un altro aspetto che ogni volta la Costituzione usa ordinamento anche fuori dal 117 e fa sempre riferimento ad oggetti, discipline, materie, organizzazioni, sui quali non arriva con tutto il suo classico potere d'imperio la legge, fin anche la legge statale, perché lascia uno spazio di libertà ai soggetti che vivono un'autonomia che si concretizza nei rispettivi, tra virgolette, ordinamenti. C'è anche la sentenza della Corte Costituzionale, che nasce da un giudizio incidentale a Tarlazio, proprio su un contenzioso con le federazioni sportive, in cui la Corte dice che la questione è particolarmente delicata perché vale a dire il rapporto tra l'ordinamento statale ed uno dei più significativi ordinamenti autonomi che vengano a contatto con quello statale, cioè l'ordinamento sportivo. Con questo passaggio incidentale la stessa Corte ci dice che tra i tanti ordinamenti, questo poi notoriamente, inutile scomodare, dottrina ormai consolidata ed ampia, è quello che più incide su questa riduzione dello spazio della legge statale o regionale che sia. E qui arriviamo all'altro aspetto, perché se io devo dividere cosa fa lo Stato e cosa fa la Regione nella potestà legislativa concorrente, dovrei prima sapere se c'è qualcosa da condividere. E questo qualcosa rispetto alle altre materie è fortemente ridotto e ancora di meno. Non ricordo qui i vincoli tecnici, i vincoli internazionali e tutte le altre elementi di società orizzontale o di autonomia organizzativa e associativa che creano questo vincolo. E allora la domanda che ci dobbiamo porre è molto semplice. Valeva la pena dividere, cioè mettere su una materia come questa due legislatori? Ora proveremo, analizzando qualche sentenza della Corte Costituzionale, a capire poi i margini concreti di questa dubbliche competenza legislativa. Perché in realtà la riforma del 2001 non fa nient'altro che andare in continuità con il progetto di riforma della bicamerale del 1997 e non è sconfessato neanche da quel tentativo di riforma successiva del 2006. Perché sia nel 1997 con la bicamerale D'Alema, sia nel 2006 con la riforma Berlusconi, in tutti e due questi testi di riforma costituzionale lo sport era diviso, come lo è adesso. Diversamente dal punto di vista lessicale, perché la riforma del 2006 introduceva una distinzione fra ordinamento sportivo nazionale, competenza dello Stato, e un ordinamento sportivo regionale, competenza delle regioni, e la Commissione D'Alema invece prevedeva la disciplina generale dello Stato sull'ordinamento sportivo. Quindi anche in questi testi c'è l'idea di dividere i compiti dei due legislatori. Controtendenza, ma ci tornerò, ovviamente la riforma del 2016 che spostava la materia dell'ordinamento sportivo tutta in capo allo Stato. Secondo me, proverò a dirlo in maniera del tutto appropriata, allora vediamo cosa è successo in questi anni. Aver collocato una potestà legislativa, quindi aver detto che lo Stato adotte principi fondamentali in materia, le regioni il resto, impropriamente il dettaglio, cosa, frase che la Corte Costituzionale in questa materia continua ad usare rispetto ad altre materie per definire la potestà regionale, e cosa è successo in questi anni? Beh, possiamo dire con molta semplicità, usando termini sportivi, che la partita fra Stato e regioni non si è giocata sul piano legislativo in realtà, ma c'è stata un'amministrativizzazione dell'attività anche della Corte Costituzionale, chiamata a giudicare in pochi casi, in realtà delle situazioni di conflittualità fra Stato e regioni dove la potestà legislativa era quasi sullo sfondo. Mi piace ricordare in particolare una pronuncia che quasi evidenzia in maniera plastica come la Corte Costituzionale rispetto ad altre materie concorrenti o esclusive statali o residuali regionali, non è tanto chiamata a dire cosa fa la legge statale e regione regionale, più o l'altro è chiamata a mettere dei paletti sull'attività amministrativa dei soggetti. È una sentenza in materia ambientale nella quale la Regione Marche disciplina il posizionamento di infrastrutture di ripetitori telefonici e in questa pronuncia a un certo punto la Corte, per poter capire come sciogliere, è costretta a cercare di dare una definizione di impianto sportivo. E lo fa, secondo me, diciamo, a prescindere bene o male questo non aspetta a me dirlo, lo fa quasi con il tono tipico del giudice non Costituzionale, che dice che è implausibile che per impianto sportivo ci sia oltre lo spazio destinato allo svolgimento dell'attività sportiva anche i percorsi di accesso esterni alla recinzione dello stesso, dovendo essere considerati anche questi come impianti accessori. Allora, lo leggo per dire cosa? La Corte di questo si occupa quando parla di Stato e Regione Marche di Sport. Se si occupa di definire se il posizionamento del ripetitore di qua o di là della recinzione vuol dire che sta nell'impianto dove non ci potrebbe stare o sta fuori dall'impianto e ci potrebbe stare. È quasi un simbolo dire che la rete esterna di recinzione delimita lo spazio fisico costituente l'impianto. Ecco, questo è scritto in una sentenza della Corte. Lo prendo a modello per dire come in realtà il 117 sta lì, ma il vero terreno di sconto è l'applicazione delle norme, o c'è l'aspetto amministrativo. Questo vale anche per altre pronunce. Penso in particolare a quella che ha riguardato Emilia Romagna e Toscana, la 424-2004, quando lo Stato dice rendiamo accessibili gli impianti scolastici. Con le Regioni impugnano la Corte dicendo no, ma questo è ordinamento sportivo, è roba regionale, è dettaglio, tra virgolette. La Corte dice no, questo è un principio. E attenzione, dice l'accessibilità è un principio, perché deve creare le condizioni per una modalità di affidamento che ciascuna regione con legge e disciplina, ma che deve garantire il fatto che tutti abbiano la possibilità, i comuni in particolare, se non utilizzano questi impianti, direttamente di assegnarli a soggetti diversi. E il linguaggio della Corte anche qui è emblematico, perché la Corte rispolvera un linguaggio da anni settanta, perché dice sì, questo è un principio fondamentale, che dovrebbe essere in teoria qualcosa di molto vago, per alcuna parte la dottrina addirittura non è un altro applicativo. La Regione poi farà il dettaglio. Una sentenza che parla di dettaglio dopo che, per molti anni, dopo il 2001, il legislatore costituzionale si era preoccupato di dire sempre guardate che è una materia concorrente, è regionale, poi c'è il principio statale. Invece recuperare l'idea che la Regione faccia a dettaglio, che attu, che addirittura dice di attuazione, usa il termine, vuol dire come rilegare l'attività regionale a un'attività meramente esecutiva, applicativa, del dettato legislativo statale. Questo è un altro fattore, insomma, un altro indice, di come il campo da gioco sia slittato dal 117 al 118. Ma in realtà il campo da gioco è slittato anche sul 119 della Costituzione, cioè quello relativo all'autonomia finanziaria, perché l'altra grande sentenza della Corte Costituzionale che si occupa del ruotimento sportivo è quella per cui il Veneto, a seguito di impugnativa di una legge statale che distribuisce un fondo statale ad impianti sportivi dedicati anche all'attività non agonistica, la Regione Vede ottiene la declaratura di legittimità costituzionale della legge statale nella parte in cui questo fondo statale interviene in materia regionale, condizionando così le politiche regionali. Ovviamente, diciamo, molte regioni non hanno ricorso, perché per alcune avvalsa anche l'idea se lo Stato spende soldi sul mio territorio o meglio, no, non li spendo io, invece per il Veneto avvalsa l'idea, no, io metto un punto sulla mia autonomia. E questa sentenza, anche questa cosa ci dice? Beh, in realtà che il piano attuativo è un altro, stiamo parlando del 119, stiamo parlando di un fondo statale, stiamo parlando di attività dove la legge regionale ha un ruolo del tutto secondario, anche perché nulla vieta, anche in presenza di questo fondo, che la legge regionale possa produrre altri interventi. Infine, l'intervento sull'istituto di credito sportivo, quello con cui la regione toscana si lamentava della composizione del Consiglio di amministrazione, il commissario di amministrazione, lì che si dice anche lì. Beh, è una banca che interviene in materia regionale, ma comunque è una banca. Poi bene farà il legislatore a modificare la normativa e prevedere anche un ruolo per le regioni. Ma come vedete, non si parla di una legge regionale, si parla di un convolgimento delle regioni, in questi casi, nella misura in cui la materia è concorrente. Non c'è una difesa di uno spazio legislativo stretto senso. Allora, che è successo in questi anni? Beh, probabilmente, facendo una battuta, se esistono tanti testi unici dello sport alielo regionale, forse perché le norme da mettere insieme non sono poi così tante, io ho fatto una piccola esperienza, diciamo, regionale, ho visto che quando si fa un testo unico la difficoltà è abnorme, perché le norme sono tantissime. Ecco, mi ha anche colpito che però molte regioni hanno un testo unico sullo sport. Infatti, andando a leggersi, non sono molto consistenti, ma soprattutto non sono molto diversi fra loro. Nella misura in cui, sapete meglio di me, non sono io a dirvelo, gli interventi si sostanziano in forme di finanziamento, di supporto a finanziamenti, piuttosto di programmazione ed impiantistica, non agonistica, piuttosto che di consulte o organi in cui lo sport ha una rappresentanza di una voce di tipo istituzionale. Chiudo dicendo cosa? Beh, la riforma del 2016 dell'anno scorso costituzionale riportava, tra le tante materie, anche l'ordinamento sportivo in capo all'esclusiva competenza dello Stato. Probabilmente, come in altre materie, facendo questo non innovava poi così tanto il riparto costituzionale attuale. Perché se noi andiamo a vedere bene, tranne piccoli casi, più o meno importanti poi per la sensibilità di ciascuno, possiamo ben dire che quell'approccio che c'era nel DPR 616 del 77, che veniva dalla Commissione Giannini, e che poi è stato sanzionato anche nel 112-98 negli decreti attuativi del Bassanini, cioè dell'idea che c'è uno sport agonistico dove lo Stato sicuramente è competente, c'è uno sport non agonistico, ricreativo, dove le regioni hanno un ruolo, mi sembra che sia sopravvissuto alla riforma del titolo quinto del 2001 nella sua sostanziale applicazione e probabilmente sarebbe sopravvissuto anche alla riforma dell'anno scorso. Quindi, chiudo, la partita fra state e regioni, visto che siamo in tema di sport, non sembra forse, sicuramente è finita, ma forse probabilmente anche dopo il 2001 non è proprio così cominciata. E quindi vediamo che succede. Grazie. Grazie. Grazie.